La Corte di Cassazione ha deciso che aveva due stanze sulle quali appunto pronunciarsi, quella della richiesta di istituzione della Regione Salerno e di quella della Regione Salento. Con riferimento alla Regione Salerno le indiscrezioni erano giuste, è stata rinviata alla Corte Costituzionale. Purtroppo, con riferimento alla Regione invece Salento, è stato deciso che il nostro quesito, che le delibere per quanto fossero ai fini, sotto il profilo del loro numero, sufficienti a integrare quanto previsto all'articolo 132, quindi effettivamente non si applicava la legge 352 ma essa doveva essere rinviata alla Corte Costituzionale come è stato fatto per Salerno, in realtà nelle delibere per quel che riguarda la Regione Salento mancava un chiaro e inequivocabile sì alla Regione Salento da parte dei consigli comunali. Devo dire che questa tesi io la conoscevo, in parte, dicevo dire, anche la condividevo, tant'è vero che noi nella bozza di delibera avevamo scritto, ce l'ho qua davanti, che i consigli comunali avrebbero dovuto aderire alla proposta del Movimento Regione Salento e quindi richiedere l'indizione del referendum. Questa formula l'avevo, tra virgolette, scogitata insieme all'amico e collega, professore e avvocato Gianluigi Pellegrino, il quale, devo dire, mi aveva messo questa pulce all'orecchio che condividevo e devo dargli atto e effettivamente questa è stata la motivazione in base alla quale la Cassazione ha ritenuto allo Stato che le delibere sono incomplete e come tali devono essere completate. Quindi a questo punto, se posso continuare, i consigli comunali, se lo riterranno, io credo che dovrebbero ritenerlo, visto anche quello che è accaduto con la Regione, tra virgolette, con l'istituzione della Regione Salerno, dovrebbero riprendere le loro delibere e inserire in modo più chiaro e inequivocabile, come noi del resto avevamo inserito nella bozza di delibere, molti di loro forse non l'hanno ritenuto importante, di aderire all'istituzione della Regione Salerno, cioè di volere la Regione Salerno e quindi di chiedere il referendum. Se sarà fatto questo, in pochissimo tempo noi ripresenteremo la domanda, l'istanza e, devo dire, ci ricongiungeremo al treno, tra virgolette, nel quale ora è rimasto Salerno. È curioso questo perché Salerno è salita sul nostro treno, ha condiviso la nostra memoria, ha fatto proprio la nostra memoria per andare davanti alla Corte Costituzionale, poi però noi siamo scesi e Salerno è andata avanti e ora è davanti alla Corte. Dobbiamo risalire sullo stesso treno e appunto chiudere questa vicenda e poter finalmente fare il referendum. Io credo che sia importante a questo punto far venire fuori l'orgoglio dei salentini, mi rivolgo a tutti loro, a tutti i consiglieri comunali, perché in fondo è giusto che insieme a Salerno la pronuncia della Corte possa avere anche il Salento e quindi in modo molto pacato, chi lo ritiene, si pronunciano anche sul sì alla Regione Salento e poi indicano nuovamente il referendum. Devono solo aggiungere questo nelle delibere, dopodiché le delibere vanno bene così.